Il decreto sul femminicidio è un decreto calderone, così l'ha definito la Lega Nord perché oltre a parlare di femminicidio si parla anche di province, in che senso? Beh, diciamo che quali che parlano bene lo definiscono decreto omnibus e noi giustamente abbiamo definito decreto calderone anche Macedonia perché è un decreto che recca disposizione urgente in tema di femminicidio, sicurezza, protezione civile e fine commissariamento della provincia, insomma un tutt'uno nel quale rientra in modo così anche abbastanza pasticciato il tentativo a parte del governo di porre rimedio a quanto fatto dal precedente governo Monti che aveva, tra virgolette, chiuso le province però con un atto che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo. Diciamo che sicuramente è un passo avanti rispetto alla situazione nella quale vertono attualmente le province alcune delle quali anche nel nord sono commissariate da più di due anni e che non si sa precisamente che fine faranno. Però l'indice ha anche di mettere un tampone su una situazione appunto quella delle province che invece meriterebbe un approfondimento che noi auspichiamo visto che questo governo ieri si è visto votare ancora la fiducia auspichiamo appunto possa rientrare nel più ampio programma delle riforme costituzionali che da qui a breve tutti ci auguriamo di poter affrontare. Il problema delle province è al di là degli aspetti demagogici o popolisti di qualcuno che non vede l'ora di chiuderle semplicemente è qualcosa di molto importante perché ancora ad oggi se si chiudono le province non si capisce a chi le competenze che la provincia in questo momento ha che sono fondamentali, basti pensare alla manutenzione stradale, e alla manutenzione delle scuole e ai compiti di coordinamento non si sa appunto a chi finiranno e in che termini.